Allora, buongiorno, buonasera o qualunque cosa voi siete vivendo in questo momento. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. In questo video ci sarà ovviamente una razzatura, perché mi chiedete spesso di questi video, io tanto le razzature devo rifare ogni mese, perché altrimenti diventano un bosco, quindi ve li porto. Adesso, mi raccomando, mettete like e iscrivetevi al canale prima che il video incominci, così che rimanete sempre aggiornati su questa tipologia di contenuti, ma come tutti i contenuti che porterò sul canale. Ci saranno due video, perché adesso inizialmente tolgo l'eco. Ci saranno due tipologie di video, cioè nel senso due video staccati, perché ci sarà un video in cui io farò la razzatura e un video in cui Giada farà la razzatura, così che avrete due video in due giorni diversi e nel tutto ho messo meglio gli occhi in ordine e ovvio, ho anche video in più. Va bene. E niente, il rasoio? Stagliare? Dove? Dove? Dove ne sopra. Dove? Tendere tu? Sì. Dai. Ma voi, allora, premesta, io non so se tagliere i capelli, cioè vi ho lanciato quella sfida, sì, ma li taglierò solo se raggiungeremo quella sfida appunto. Ma gli fa mi piace. Sembra tipo moltissima Adams. Tagli prima tuo o tagli prima io? Quindi tu a me? O io a te? No, 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 tu a me. No. In questo video tagliare i miei capelli è già. Aspetta. È razzatura. Che poi questo sarà un vlogmasso, quindi sarà passato Natale, mi sa, da poco. Quindi auguri di buon Natale. Anche se siamo a novembre, adesso noi, fine novembre, però per quando uscirà questo video sarà Natale, quindi buon Natale. Iniziamo a tagliare, vai. Ok. Mi faccio vedere. Ce l'ha in baro. Cosa fa? Comunque non sto sfugando questa cosa. Mi sta male il bianco. Secondo me dovrei fare una seduta di armoncromia. Beh. Perché boh. Mi sbianca. Il bianco. Mi ti dà una sceglomano. Che vai perdendo pene ovunque poi. No, ok. Non ti dà una sceglomano. Non so che sceglomano. Ah, già. Povero Dio. Questo video durerà anni e giorni. Fuor di vedere una rasatura. Ma comunque. Mi piaccio dei video in cui Lorenzo mi rase i capelli? Ce ne vorreste ancora? O preferite i video in cui Giada mi tagliare i capelli? Ovviamente io. Perché è quello di Lorenzo. Ci sono stavetta. Devi togliere la coperta. Perché? Vai, non vieni sotto. E te li porti ovunque. No, ho detto. Vai, so un attimo. Avrete sta male di riporto. Sì. Avevamo vista. Ma andavo. E inizial. Será che è giù? Sì. È anche il schermo. Sì. È anche il schermo. ma non è più facile, non me la ricordavo così complicata la rasatura facciamo rilassante, mi ero dimenticata quanto fosse rilassante guarda, io posso rilassare ingegnati in uno dei due lati perché ho aggiungo l'ancolo della tua nolla? si perché ho aggiungo l'ancolo della tua nolla? si è bello perché stavo a prendere il pullman no ad acoli? no ad acoli no ad acoli? sì no no non non ma non 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 Già, sti capelli, però potrei rilegarli in bella. Ok, guarda, finisco più che taglio qui, perché è normale, come mi sposto, guarda, ci sarà un biglante taglio di capelli. Uuu, oh, uh, no, 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 no. Dai, mi pigi, giri. Fa male. Non l'ho visto. c'è ancora un wow c'è di qua dai oh guarda la vita di Dio Anna Anna non lo vedi? non lo vedi? ho già fatto faccia di un mausper dai hai venuto? no, ho venuto troppo non riesco a farle parallele e niente non riesco a farle non riesco a farle perché stai curva perché stai stai e già vuoi dire la parte del cuore non mi hanno fatto prima le capelli non mi hanno fatto prima le capelli non mi hanno fatto prima non mi hanno fatto prima non mi hanno fatto prima E ora che facciamo per Natale? Giorgio! Tu comunque hai fatto prendere l'asciugano e l'asciugano che non è niente. Guarda! 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 Questa è il mio capenino. Sai, non c'è alcuni bia di aria. Ma di qua non l'hai fatto il bia. Abba! Che bella è che tu mi dici pure il finito. Antonio, lo andiamo. Dovremmo fare un ordine su scena. Mi manca un sacco i passi che arrivano. Però non stesso ogni mese c'è un nuovo pacco. Lo andiamo. No! Mi pulisci? Non così! Mi pulisci? Mi pulisci così! Mi pulisci così! Dai un attimo! No! Ah, brava, brava! Non mi pulisci così! No! Sei un po' macchie però! Cavolo! Me ne fregono due adesso! Lei andrà in giro a macchie! No, serio! Sei un po' tanto macchie! Ma vedi? Ma che senti? Chi è? Lo vedi? No! No! Mettiti qua! Molti vedi! Lo vedi? Ma che tipo non mi interessa? Sei tanto macchie! Ma che tipo non mi interessa? E va bene! Questa è la rossatura di Giana! Oggi è uscita un po' più male del solito! Non so perché! Non ci faremo queste domande! E niente! Lui è finito! Spero che vi sia piaciuto! Spero che vi siate diventati! Mi raccomando! Iscrivetevi al canale! Mettete like! Per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti del canale! Che porteremo in futuro! Perché ci saranno tanti bel contenuti! Che non vi aspetteremo minimamente! E niente! Ci vediamo nel prossimo video! Oddio! Oddio! Chissà che cosa è successo! Ma io non so stata! Tu perdi i capelli! Certo! Certo! Non si vede niente! Vabbè! Succede! Dai! Cazzo! Vabbè! Non è il risultato che volevi pochi capelli! Sì! Non è ancora! Ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao!